Buongiorno, buongiorno da Mirko Minardi, oggi parliamo di chirurgia estetica e ieri ho letto una sentenza molto interessante del Tribunale di Roma, classico caso di mastoplastica addittiva in un caso di ipoplasia, cioè seno piccolo e quindi intervento per aumentare le dimensioni. La ragazza si sottopone a un primo intervento di chirurgia venuto decisamente male, rifà un secondo intervento sempre con lo stesso medico e questa volta riesce un po' meglio ma il risultato è comunque insoddisfacente. E quindi conviene in giudizio il medico per sentire e dichiarare la responsabilità e sentire e risarcire i danni non patrimoniali. Molto interessante la sentenza del Tribunale di Roma, peraltro rega la firma di Marco Rossetti, oggi non è più in forza il Tribunale di Roma ma il massimario della Cassazione, ma indubbiamente una delle menti più brillanti che abbiamo in Italia dal punto di vista giuridico. Allora, inizia la sentenza ad affrontare tutti i vari passaggi. Anzitutto è provato che c'è il danno estetico. E questo non c'era bisogno neanche della CTU perché lo stesso magistrato se ne accorce guardando le fotografie perché i seni sono asimmetrici, hanno forma diversa, posizione diversa e quindi l'intervento è manifestamente mal riuscito. Secondo aspetto, la colpa. Qui il problema viene risolto agevolmente perché il Tribunale ritiene applicabile l'articolo 1218 per cui la colpa si presume in capo al debitore, è il debitore che deve dimostrare che l'inesatto adempimento o l'inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile, quindi impossibilità sopravvenuta o comunque un qualcosa, un quid che esula in modo assoluto dalla responsabilità del debitore. Nesso di causalità, anche questo problema viene risolto facilmente che applicando il principio del post hoc propter hoc, l'intervento si pone come antecedente necessario che ha provocato il danno estetico e che non è stato neutralizzato da una causa successiva. Si passa quindi al problema della valutazione del danno e alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. L'obbligazione del chirurgo estetico è un'obbligazione di mezzi o un'obbligazione di risultato? Si discute molto in dottrina e in giurisprudenza, la tesi prevalente ritiene che si tratti di un'obbligazione di risultato. E qui qualcuno potrebbe dire che come sei antiquato, ormai la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato è superata perché ci sono state le sezioni unite che nel 2008 hanno precisato che quantomeno ai fini del riparto dell'onere della prova non ha più ragione di esistere questa distinzione. Abbiamo già parlato in altri video di questo argomento. Rimane comunque una differenza strutturale tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato e che la costruzione delle sezioni unite non sia convincente lo dimostra il fatto che la giurisprudenza successiva della Corte di Cassazione è poi ritornata su questa distinzione. In un altro video avevo fatto l'esempio di una recente sentenza che, partendo proprio dalla natura di obbligazione di mezzi della prestazione del lavoratore dipendente, ha affermato che il datore di lavoro non può semplicemente basare il licenziamento sul mancato raggiungimento di un risultato da parte del lavoratore, proprio perché si tratta di un'obbligazione di mezzi e quindi deve dimostrare il notevole addempimento. E comunque, dicevamo, rimane sempre una distinzione fondamentale. Nella obbligazione di risultato il risultato fa parte dell'oggetto della prestazione. Nella obbligazione di mezzi il risultato si pone al di fuori dell'oggetto della prestazione, per cui il debitore è tenuto soltanto ad un comportamento diligente. Nelle obbligazioni di risultato non ha importanza che il debitore sia stato diligente, per la semplice ragione che se il risultato non è stato ottenuto, comunque rimane responsabile, salva l'ipotesi di esclusione di cui è all'articolo 1218. Nelle obbligazioni di mezzi, invece, se il comportamento è stato diligente, il debitore non risponde del mancato raggiungimento del risultato. E quindi, quantomeno in punto di allegazione dei fatti, rimane una differenza fondamentale. Perché se io convengo, ad esempio, in giudizio, questo è un esempio che faccio sempre, l'appaltatore, perché ha costruito una casa e poi la casa è crollata, io posso limitarmi semplicemente ad allegare e provare l'esistenza del contratto e poi il crollo della casa. Non ho bisogno di dimostrare, di allegare per quale ragione la casa è crollata. Aspetta all'appaltatore dimostrare che il crollo della casa è dipeso da qualcosa, da una forza esterna che non può essere imputata a lui. Nelle obbligazioni di mezzi io non posso fare un atto di citazione allegando semplicemente il fatto di non aver ottenuto un determinato risultato, ma devo spiegare, perché questa è la causa Petendi, insieme al titolo, qual è l'inadempimento che io addebito al debitore. Chiusa parentesi, il Tribunale di Roma propende per la teoria delle obbligazioni di risultato, per cui nel momento in cui un soggetto richiede un intervento di chirurgia estetica e il medico acconsente ad eseguire questo intervento, si obbliga a far raggiungere un determinato risultato al paziente. Se questo risultato non viene raggiunto, ovviamente ne risponde. ma qui subentra un'altra questione in questa sentenza, perché pur essendo nel caso di specie un danno non lieve e quindi un discreto danno, il consulente medico legale attribuisce a questo danno un punteggio del 3%. È interessante notare che nell'ordinanza con la quale il giudice aveva posto i quesiti al CTU, il giudice aveva indicato anche a quale testo medico legale il CTU avrebbe dovuto fare riferimento, nella specie il Bargagna. Questo è importante, riapro una parentesi, perché esistono vari testi di medicina legale e non tutti gli autori, non tutti i medici legali che hanno scritto questi testi concordano sulla valutazione dei danni e ci possono essere delle differenze anche molto importanti. Il Tribunale di Roma, sempre nella persona del Dottor Rossetti, che tra l'altro al tema della CTU ha dedicato un libro, molti articoli, quindi è un tema che conosce molto bene, dice al CTU fai questa valutazione del danno ma tieniti a questo testo per calcolare il punteggio. Il CTU accerta il danno e stabilisce un'invalidità permanente del 3%. Siccome il Dottor Rossetti non è uno di quei magistrati che legge soltanto l'ultima pagina della consulenza medico legale, si rende conto che questo punteggio è assolutamente insufficiente, perché non si era di fronte ad un danno lieve, ad un danno moderato, ma era un danno consistente. E allora fa questo ragionamento, ma è possibile che il CTU abbia tenuto in considerazione il fatto che la situazione preesistente era già comunque una situazione pregiudicata. Nel danno biologico ordinario, chiamiamolo così, si parte da un valore ideale che è di 100 e si stabilisce qual è la compromissione della salute. Ma se ad esempio a uno zoppo viene amputata la gamba, il punteggio sarà minore rispetto alla persona alla quale venga amputata una gamba che aveva una gamba sana, perché si tiene conto dell'invalidità che già aveva prima del secondo danno. E allora il Tribunale di Roma si chiede se in questo caso si debba tenere in considerazione lo stato preesistente. E la risposta è negativa, proprio partendo dalla natura di obbligazione di risultato del chirurgo estetico. Cioè il Tribunale dice se io vado da un chirurgo estetico per ottenere un determinato risultato e il chirurgo estetico accetta l'intervento dicendomi che quel risultato può essere ottenuto, quando poi si accerta il danno, non è che si può tenere in considerazione il fatto che già prima c'era una situazione pregiudicata, perché nel momento in cui il chirurgo si obbliga a garantire quel risultato il danno va accertato nella sua completezza e quindi poco importa, anzi nulla importa, lo stato preesistente. Quindi alla luce di tutto questo il Tribunale ha riconosciuto un'invalidità permanente dell'8% e quindi ha calcolato il danno in base a questa valutazione. Quindi si è discostato e non poco da quella che era stata la valutazione del CTO. Sentenza molto interessante che verrà pubblicata sull'Exform, ma sulla chirurgia estetica ritorneremo perché è un argomento molto interessante e presenta ancora molte questioni che devono essere risolute. Arrivederci.